C'è già una data e sono aperte le iscrizioni per Gravellina 2024, il nuovo evento cicloturistico di cui è andata in scena un'anteprima che ha visto la partecipazione di media, aziende e opinion leader. Il 21 e 22 settembre la Valtellina si aprirà così al pubblico del gravel, con percorsi che seguono le strade rurali dove la valle coltiva e produce i suoi prodotti più noti come i vini e le mele e più tradizionali come la segale e il grano saraceno. Le vie che oggi come un secolo fa sono il manifesto del rapporto tra uomo e natura qui in relazione e in equilibrio. Gravellina 2024 si svolgerà nel corso di un intero fine settimana di settembre e sarà aperto a tutti a seconda delle proprie capacità. L'evento cicloturistico proporrà diversi percorsi, duri per chi vuole sfidare le salite tra i terrazzamenti della viticoltura eroica, oppure più rilassati e con meno dislivello per chi preferisce rimanere più ancorato al fondo valle. Entrambi resi unici dall'ampio spazio all'enogastronomia, che proprio in questi territori trova origine e piena capacità di espressione. Grazie. Grazie.